Sulla base di un'analisi che abbiamo fatto anche rispondendo a sollecitazioni che il mercato ci ha fatto senza da noi essere minimamente sollecitate, io sono stato la settimana scorsa a Londra perché sono stato sollecitato da operatori che sono interessati alla struttura alberto. Io non ho mosso nulla, non mi sono mosso, sono stato costretto ad andare perché sono interessatissima alla struttura alberto. Sulla base di questo abbiamo, e sarà un oggetto della conferenza di servizi che partirà il 5 di aprile, e abbiamo fatto una, proporremo una piccola modifica all'interno del quadro definito in sede di Convenzione Urbanistica per quanto riguarda alcune delle situazioni funzionali. Come forse ricorderete, nel plastico l'albergo è posizionato verso Piazza Giovanni Montitresi. Sulla base di concorde indicazioni che abbiamo ricevuto da operatori del settore, preferiscono dato che vogliono dare all'albergo unico, ostento e elevato, preferiscono che l'albergo sia pubblicato centralmente rispetto all'albergo. Per cui l'idea è di proporrele all'amministrazione su cui ci siamo confrontati e di spostare l'albergo da quella posizione a quella competenza.